Sono 7.626 i bambini dai 3 ai 16 anni che hanno scelto di frequentare i centri ricreativi estivi comunali. Il numero di utenti è in linea con quello dello scorso anno, sono aumentate da 31 a 39 le proposte presenti in tutte le ex circoscrizioni con almeno un punto di erogazione. A fare il punto sull'andamento del servizio l'assessore all'istituzione Giovanni Selmo. Una proposta ricchissima, quest'anno sono anche di più i centri estivi in città, coprono tutti i quartieri e tutte le circoscrizioni, hanno raggiunto quasi 8.000 bambini, bambine e ragazzi dai 4 ai 16 anni. È un periodo bello e speciale, quello dell'estate, è un periodo molto lungo per le famiglie che hanno bisogno quindi di questo tipo di offerta. Anno che ha portato anche delle novità come il centro estivo in lingua inglese in cui 33 bambini per due settimane hanno interagito con alcuni docenti interamente in lingua inglese. e la sperimentazione della danza con due nuovi centri estivi, una proposta attività come street dance e acrobatica aerea, l'altra incentrata in diversi stili di ballo.